Eccomi qui, sono alla stazione di Harajuku, adesso sta nevicando leggermente quindi tra poco aprirò l'ombrello e vi porto a Meiji Jingu che è qui vicino Vi volevo indicare alcune cose, in altri video sempre che ho fatto qui a Harajuku vi spiegavo che qui c'è la stazione, l'uscita è sempre su questo lato della strada se andate verso sinistra e poi a destra ci sarà Takeshita Dori, ma questo è un altro video e invece qui andando a destra trovate questo ponte, quindi uscite dalla stazione e andate a destra qui ci sono un po' di turisti e adesso vi mostro qui allora qui c'è questo ponte, chiaramente oggi non è la miglior giornata per presentarvi Tokyo però sappiate che se venite qui la neve non la troverete quasi sicuramente però giornate belle 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 come ho trovato io a dicembre quando ho fatto delle fotografie qui in questa zona molto belle perché c'era il cielo che era spettacolarmente blu quelle giornate sono difficili da trovare, si trovano si, si trovano più che altro in inverno, in estate forse un pochino meno allora, siamo qui in questa zona, ok, arriviamo in questo ponte quindi uscite dalla stazione, andate a destra, arrivate su questo ponte qui proprio dove vi sto inquadrando in questo momento anzi apro l'ombrello già che ci sono vediamo, eccolo qua, ok e in questo, in questo ponte praticamente la mattina e no scusate